Sette università unite per realizzare un obiettivo ambizioso, rendere sostenibile la mobilità nell'area del Mediterraneo. Con questa finalità è stato ideato il progetto CampSump, cofinanziato nell'ambito del programma Interregmed con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale presentato nell'ambito di una conferenza stampa, svoltasi presso l'edificio delle bioscienze dell'Università Magna Grecia, a margine di una due giorni di confronto utile alla definizione delle strategie da intraprendere per una futura sperimentazione di servizi di mobilità sostenibile. Il progetto CampSump, di cui Fondazione Università Magna Grecia è capofila, si sviluppa in collaborazione con le Università di Atene, Valencia, Cipro, Spalato, Malta, Bologna e con diverse istituzioni, tra cui il Ministero dei Trasporti di Cipro, il Comune e la provincia di Cadanzaro, la Regione Calabria e Lega Ambiente Calabria. Scopo di questo progetto è studiare i flussi degli studenti in ciascuna delle università partecipanti, quindi i flussi in ingresso e in uscita del campus, per poi proporre uno studio di fattibilità di mobilità sostenibile per decongestionare sia il traffico cittadino che il traffico di ingresso e uscita dai campus. Questo studio, condotto in parallelo sui sette campus coinvolti, permetterà poi di fornire alle amministrazioni comunali un piano per sviluppare un progetto di mobilità sostenibile. Fare in modo che questi campus, anche esterni, realizzati fuori dal centro storico, diventino un punto di forza per una città, diventino un punto di ritrovo per una città attorno al quale si possa sviluppare. Tuttavia, come lei giustamente dice, è fondamentale il supporto delle amministrazioni locali, l'impegno delle amministrazioni locali e delle aziende di trasporto locali che devono interagire con le fondazioni universitarie, con l'università stessa, per garantire una mobilità efficiente e sostenibile a tutto il personale universitario. Ha un progetto che vede capofila, Fondazione UMG, capofila di un partenariato europeo, mediterraneo, che vede appunto come al solito, primo luogo e con la massima attenzione, la cura degli studenti, soprattutto in questo caso, a flusso e deflusso verso e dal campus universitario. Grazie.